Lavoro irregolare Approvata la sanatoria per regolarizzare i cittadini stranieri Dal 15 settembre i datori di lavoro potranno presentare dichiarazione di emersione Che stanno dicendo? Fanno un programma di canzone? Sì, un festival di San Rima Mamma, Anna fa una legge per straniera Chi? Massimo Ranieri Come mi piace Massimo Ranieri Stranieri mamma, stranieri L'abbattante mamma Il decreto legislativo di messa in regola riconosce ai lavoratori stranieri Il diritto di emergere dall'invisibilità giuridica e dalla ricattabilità E questo? Ora non mi piace la sanità No, abbasci Virgina Mamma, Anna fa una legge che serve a non far lavorare più in nero Ehi, giù Tu non è l'amma? Sei fatto Mietti un coppa a Massimo Ranieri Mamma Non siate sordi ai diritti di chi lavora Ciao a tutti Grazie Grazie a tutti.